Il laboratorio prevede inoltre la spiegazione dei workflow di post-produzione, i principali ruoli, i metodi di ripresa, gli strumenti di processi di lavorazione fotochimici e digitali. Un corso molto interessante, dinamico, istruttivo ma anche divertente, dove potrete chiarire e capire qual è realmente il ruolo del montatore e l'importanza della post-produzione per la realizzazione di un film o di uno spot pubblicitario. Tanti aneddoti che hanno caratterizzato anche film famosi, interviste a registi e montatori. Insomma, un mix di cultura, tecnica e metodi di lavoro utile per chiunque vuole fare o fa questo mestiere. Un'occasione unica per imparare anche a confrontarsi con un professionista con una grande esperienza come montatore e supervisione alla post-produzione.